Noi predichiamo Gesù lì in Italia, vogliamo dirvi che Gesù vi ama, vi tordona a tutti i peccati, che vi dà la città e se fa. C'è il mio diciamo al po' di chi non lo diciamo, tu non lo dico, non rifiutare la grazia di Dio, perché fra breve Gesù ritornerà. Non rifiutare la grazia di Dio, perché fra breve Gesù ritornerà. Noi predichiamo Gesù lì in Italia, vogliamo dirvi che Gesù vi ama, e gli perdona tutti i vostri peccati. Egli vi dà la celeste pace, non lo diciamo ai poveri e ai ricchi, non lo diciamo a ciascuno di voi. Non rifiutare la grazia di Dio, perché fra breve Gesù ritornerà. Fatte trovare pronto. Noi predichiamo Gesù in Italia, vogliamo dirvi che Gesù vi ama, e gli perdona tutti i peccati. Dio che vi dà la celeste pace, non lo diciamo, poveri e ai ricchi, non lo diciamo a Gesù ogni po'. Non rifiutare la grazia di Dio, perché fra breve Gesù ritornerà. Non rifiutare la grazia di Dio, perché fra breve Gesù ritornerà. Grazie a tutti. Grazie a tutti.